Giovanni Ambroso, primo alla Trento Bondone, una gara unica, quindi uniche anche le sensazioni che porta a una vittoria di questo tipo. Sicuramente, guarda, molte volte che l'ho fatta, credo di avere fatta la prima rievocazione storica che hanno fatto circa 15 anni fa, 18 anni fa, non ricordo, c'era ancora Moser come assessore allo sport, mi ricordo, quindi tanto tempo fa, con una Giulietta. Poi sono arrivato due volte secondo, sempre dietro piloti importanti e finalmente quest'anno sono riuscito a vincere, è una situazione enorme. In più, avendo come compagno di gara un mito della Trento Bondone, è ancora meglio. Per me è una corsa straordinaria, se non c'è la comparazione in Europa di queste corsa, c'è una molto bella corsa, l'organizzazione è perfetta e per me c'è molta voglia di ritornare a fare questa gara. Ebbene, allora alla prossima. Alla prossima, per me è la corsa di Sestriere, ancora in Italia. Ancora in Italia. E allora per cercare di raggiungere il campionato d'Europa ancora una volta. Perché lui sta cercando di conquistare il campionato d'Europa delle autostoriche e per vincere ancora una volta, perché ne ha vinto anche con le moderne. E quindi la prossima gara la farà Sestriere e sicuramente l'anno prossimo sarà qui a Bondone.